Start, 2, 1, installa missione e liftoff! A caso, dove all'inizio noi potremmo scegliere una classe da livellare e dove noi andremo a combattere gli insettoidi, i classici nemici della serie, del film Starship Trooper. Ora stiamo vedendo il tutorial, il tutorial dura pochissimi minuti e ci insegna una meccanica fondamentale di questo gioco dove dovremo costruire gli edifici. Cioè potremo costruire vari edifici, dalla classica cassa delle armi per i nostri compagni o noi stessi, i muri piccoli, i muri grandi, le rampe, i cancelli, i grandi cancelli, le torri, i bunker, l'electric fence e tante altre cose. Il gioco ha una meccanica molto semplice che è quella di, ok sì costruire, ma all'inizio della partita noi dovremo proteggere delle trivelle che sono in grado di scavare in tot secondi e depositare all'interno di alcuni barili delle sostanze in grado di permetterci di conquistare la mappa. Quindi avremo un quartier generale, avremo le trivelle come vedete lì in fondo. Queste trivelle in partita, le andremo a vedere a breve, ci permetteranno di depositare, raffinare del materiale che depositeremo nel bunker. Adesso lo stiamo facendo molto velocemente, vedete che qua lo attiviamo, cosa che si fa in partita, in tot secondi produrrà un canister e lo porteremo al bunker. Adesso io non ricordo che cosa serve potenziare il bunker, ma ci dovrebbe dare dei punti costruzione. Quindi ogni volta che noi costruiremo alla fine della parte finale della partita, consumeremo punti risorse e questi punti risorse vengono accumulati durante tutta la partita dalle trivelle che scavano per terra. Noi trasportiamo fisicamente qui, depositiamo, accumuliamo punti e nella parte finale della partita andremo a costruire difese come vi ho fatto vedere prima. Ma adesso concentriamoci sulla partita in sé e vi faccio vedere uno spezzone, uno spezzone, una partita intera che abbiamo giocato io e Ibu. Allora, iniziamo una nuova partita, sei in squadra, sì, join up now, missione unica mi sa al momento. Penso di sì. Quick play, quick play, capture territory. Ah, questa praticamente sarà una, l'ho già vista, è un altro gioco dove si va avanti tipo una missione globale, A, S. Noi facciamo un quick play che alla fine ci farà fare quello, alla fine perché si conquistavano i territori. Iniziamo. Un minuto e mezzo di tempo estimato per entrare in partita. Vediamo se... Un minuto sì, ma ci ha messo meno quando ho provato io. Vediamo cosa... Ok. Dieci secondi. Ok, siamo dentro. Ma tra l'altro non ho modificato il mio loadout con le armi sbloccate, ma va bene. Eh, lo so. Vediamo. Ok, calcola che questa qua è una pre-redivise ancora, quindi... Magari aggiungono anche modalità diverse tra un po'. Ah, c'è la news! Va bene. Start mission è uguale a prima. Dobbiamo avanzare, conquistare, costruire la base e difenderci dall'attacco finale. Andiamo su Cerberus, come al solito. Hunter, così continuo a livellare la mia classe Hunter. E siamo già dentro. Ok. Allora. C'è il luogo da conquistare. Poi tecnicamente dovremo piazzare la torretta. Che scava. La trivella. E trasportare la roba alla base. Ecco qua. Esatto. Allora, praticamente. Capture, pill... Sì, quindi uccidiamo... Mamma mia quanti! Ah, ma si può andare anche con la sopa. Questa è l'area, l'area è segnata. L'area è segnata, l'area è segnata. Riarmi, prima di procedere al tuo prossimo obiettivo. Ok. Rimstone 1, questo è Vulture 1. Halo è inutile in un ruolo. Ok, devo rifornirmi e aspettare i nuovi ordini. Eccola qua, la base. Che è stata... L'ha costruita qualcuno qua, però? No, questa la lanciano. Ah, ok. Rifornite le munizioni. Aspettiamo... Nuovi ordini. La mappa è diversa da quella da prima? Non mi sembra. No, la zona è più o meno questa. Sì, eravamo forse un po' più in là, comunque la mappa è questa. Comunque, il jetpack è on-off. Lo attivi e lo devi disattivare, se no continua. Ok, bisogna andare là. On-off, ma non lo so usare comunque. Però, questa è notte. Ok, la trivella è già in funzione. Quindi, qui bisogna aspettare che produca. Una volta che fa la raffina, prendiamo e portiamo alla base. E nel mentre trasportiamo, non si può sparare. Quindi bisogna essere difensi da qualcuno. Non che trasporta, non che trasporta. Ok. Ma il momento sembra tutto. Ma sono due trivella, comunque. Una colonna di là. Non vedo nemici. Quanto, quanto, quanto? Dimmi quanto. Uh, forse è qua e pronto. Cavoli, me la sono mancata. Volevo prenderne una. Vabbè, dobbiamo portarne otto, quindi... Ok, dovrebbe produrla adesso. Ok, la prendo. Ok. Ok, sei qui con me? No? Sono qua sul finale. Ok, sto portando alla base la... Uh, c'è gente! Difendetemi. Ok, bravi. Cavolo, è un bel percorso. Cavolo, ho sbagliato strada in pieno. Però almeno mi sta aiutando qualcuno. Credo che le due tolalette ne producano quattro a testa, quindi dobbiamo farle andare una volta sola. Secondo me, fin quando gli dai l'input, lo... Ok, il jetpack funziona abbastanza bene, ok? Sono ancora abbastanza sotto, quindi devo risalire in qualche modo. Ok, sì, sto prendendo la zona più impervia che io possa prendere, ma dovrei farcela. Ok. La deposito qui. Ok. Due su otto le vengono depositate. Rifornisco anche di... Anche se non ho speso molto. Qua ci sono i canister vuoti. E dobbiamo tornare là e prendere. Sì, è diverso da prima perché è più lontano. Torno là a vedere adesso se... Oddio. Oddio, ah, la... Siamo virtualmente in competizione, ma siamo 4 team di alleati. Sì, perché alla fine c'è il miglior team. Però si coopera tutti. E comunque, da quello che abbiamo visto prima, il bello deve ancora venire. Oh, cazzarola. Sì, vanno giù abbastanza facilmente. Il gunplay non è nulla di che, ma è un action, come mi dicevi, quindi... Non ha la pesantezza delle armi di un Tarkov, ecco. Non è una simulazione. Ok. Il 3 ha molto l'ambiente del 3. Cavoli, questo è andato in cooldown. È anche questo. Eh, ma mi sa che li abbiamo raccolti tutti. Lo abbiamo tutti, sì. No, vabbè, qua ce n'è ancora una. Io la prendo nel dubbio. Ah, però non me la sta trasportando, perché? Ecco, i mentali hanno già preso tutte. No, era lì. L'ho lasciata cadere, ma no, non la vedo. Vabbè, dobbiamo tornare là, immagino, perché... Ok. Un po' secco di munizioni. Abbiamo 400, quindi... Spero... Le abbiamo tutte, perché... Eh no, qua mi dice di no, perché me lo segna ancora là. 7 su 8 me lo segna. 7 su 8, ok. Sto arrivando. Ah, sta arrivando, ok. Lo vediamo. Sì, eccolo lì, perché c'ha la... Lo sto facendo per niente, perché abbiamo finito. Va bene. Eh, rifornisci e andiamo... Ok, adesso prendo le armi. Qua c'è il totale di armi per tutti. Da qui tutti e 16 attingono. Siamo in 16-16 stavolta, siamo in... Allora, dove andiamo, dove c'è il fumo? Lo vedi che siamo in 16. No, chiedo, perché so che la partita è da 16. Ah, vedo che in parte al countdown, dove c'è il countdown rosso, vedo un 15. Ok. Allora uno ce lo siamo già giocati, mi sa. Non esiste il respawn, può essere salvato nei 20 secondi appena morto, ma se non ti salvo in quel tempo... Ok, non si rientra. Ma poi, calcolando adesso, c'è solo questa modalità, ma il gioco deve ancora uscire. Ma promette senz'altro bene, perché è divertente. È un cooperativo che però è intuitivo. Cioè non devi essere... Cioè alla fine non c'è competizione, quindi... Adesso io non capisco cosa devo fare, ma... No, dobbiamo mandare le ore al silo ancora, stavolta. Ok, di nuovo. Collect ore a canister. Ok, lo sto trasportando dove non ne ho idea. Ok, seguo il tizio qua. Ah ok, ci stiamo pian piano avvicinando alla fortezza. Deposit. Ok. Sto scavando. Ok, depositato. 3 su 8 quindi, questa volta. Che poi con il tasto B si può andare in modalità di costruzione, costruire edifici o ripararli. Però questo penso lo vedremo dopo. Beh, io sto riparando pian piano gli esteratori. Quando vengono attaccati. È in cooldown? Questo qua sta scavando. Sì, sta scavando anche questo. È un po' confezionale il tutto. Ma perché non siamo ancora... Sì, non siamo pratici. E il più ti sta. Ma è qua. Ma l'abbiamo salvato. C'è anche la granata, ma ne ho una. Me la tengo buona. È andato giù qualcuno. C'è un po'... 5 secondi. Ok. Ok. E la vita non so se salga da solo o se qualcuno mi sta curando. Ma sta mandato. Ok, abbiamo riattivato l'ascavatore. Ne mancano 7. Ok, stanno portando l'ottavo adesso. Quindi dovremmo aver finito. Poi vedo ancora un botto di insettoni. Ok, territorio 3 accatturato. Ok, dobbiamo costruire la base. Perfetto. Una delle parti più belle della partita. Perché adesso... Questa scena mi ricorda un po' Rainbow Six Siege. Grandi linee, grandissime linee. Perché qua si costruisce tutti insieme. Mura, torrette... Gatling. Scale. Cancelli. Speriamo un po' meglio dell'ultima volta che sono stati... Demoliti da... I nemici. La coppia è volata... Quando arrivano con i grossi. Ah, ok. Qua ci dice... Costruisci di base... Ok, questo. Che è il luogo centrale del quartier generale. Se si costruisce in combo... Si costruisce più grossamente, ovviamente. Sì, ma adesso... Ripare. Do una mano. Ok. Ok, questo è il... Ora. Questa è la verde, la zona di costruzione. Premendo R possiamo andare a costruire. Possiamo costruire qualsiasi cosa. Mura e vale varie. Io adesso non so da dove attaccheranno i nemici, però... Vedo che stanno costruendo delle mura. Io gli piazzo un muro anche qui. No, no. Non so cosa vogliono fare, ma... Ah, la stanno piacendo lì. Ok. Vedete che lo piazzo qui. Io adesso faccio una cosa... No, non posso. Non posso più costruire. Perché? Abbiamo due minuti... Di pianificazione, ok. Vorrei costruire la torre. La torre io la costruisco. Se sapessi come fare... Posso ruotarla, vedete? Io la metto... Vorrei metterla qui. Più o meno. Dove posso andare a costruirla? Si costruisce a moduli. Quindi si costruisce la parte bassa, credo, poi l'altra. Almeno prima mi ha fatto così. Ah, ok. L'ho fatta in questo modo un po' strano qua, ok. Niente da... Si sale da qui, insomma. Mi ha tagliato la parte più bassa, ma ci sta. Perché da qua riusciamo a tenere d'occhio. Però io vorrei costruire anche... Gli stanno facendo delle fortificazioni elettriche. Vorrei costruire qualcos'altro. Magari di supplemento. Tipo un muro un po' più... Un altro muro, magari. No. Ci sono difese vere e proprie, no? Ci sono le elettorrette. Io adesso potrei piazzare la... No, vorrei... Però io metterei un muretto anche qui, nel dubbio. Un bunker si potrebbe piazzare a qualche parte. E i materiali di costruzione sono tutti disponibili... Al centro del... Andiamo... E si comincia. Ok. Andiamo a dare una mano qua. Cazzo, questo è grosso. No, è andato giù, è andato giù. È cazzo tipo di là, ragazzo. Uno si è messo fuori a difendere. Fuori? Non mi fare un bel top. No, no, infatti però... Però penso che abbia un fucile apposta. O sto sbagliando o dovrei stare io, essendo una classe pesante, però... Ok, qua sembra abbastanza pulito. Adesso si saranno spostati da un'altra parte. Infatti, vedete che stiamo cooperando tutti... Tutti e 16 adesso, vi segno a 16, da tutte le parti. Però di là stanno sfondando la parete. Guarda, mi sa che è tutto arrampicabile. Si stanno arrampicando anche da altre parti qua, vedo. Qua abbiamo fatto un intercapedine in più, in modo da non... E lì hanno protetto la parte centrale, dove viene minato il materiale, con le pareti elettriche. Perfetto. Ok, vedete, in alto a sinistra c'è il percentuale della raccolta dei dati. Una volta che arriviamo al centro, inizia la fase, l'ultima, quella di estrazione. Vengono fuori dalle pareti. Oh no, questa era un'altra citazione. Niente, appena vedo qualcosa di grosso, userò la mia unica granata che possiedo. Il tipo sotto a rigge, tiene botta. E' uno morto, che noia, tra mezzo a salvare. Sto guardando se riesco a andare io, ma è messo in un luogo brutto, brutto, brutto. Questa zona qua è meno coperta, comunque. Poi è bellina sta tornata qua, perché si vede tutto. Tanti però. Mamma mia, sei grosso. Granata. Non ne ho un'altra, no. Ho anche quasi finito i colpi. Ho finito i colpi. Eh, c'era in giro una... È stata io, ma mi sa che è andata. Eh sì, perché se tutti attingono... È morto qualcuno lì fuori. Qua, qua, qua. Ok, refill ammo. Merda. Lo stiamo tenendo meglio. Merda. 75%, ok. Perfetto. Dai, 85%. Dai, dai, ci siamo. Non so dove sia l'azione più concitata adesso, ma... Penso di là. Devo fare pace con il jetpack che non so usare. La salita delle scale ogni tanto è un po' scattosa. Un 98%. Perfetto. Adesso, tra pochi secondi, inizia ad arrivare la navetta per l'estratazione. E dovremmo aprirci un barco fino a là. Volevo ricaricarmi le armi ancora una volta, ma... Eccola lì. Ok. Ok, da questo momento lo respone disabilitato. Sì, che poi, questa è la meccanica, questa è la riestrazione, è già vista anche in Deep Rock Galactic. Con la navicella che arriva entro un tot di tempo e poi parte entro un tot di tempo. Non mi ha quanti. Poi è bello perché è semplice quello che bisogna fare. E questo favorisce anche la cooperazione. Anche senza parlare. C'è il simbolino. La navetta è lì. Lo shuttle è lì. Parte tra tot. Due minuti. Difendiamo. Fine. Tra l'altro la navetta è ancora chiusa. E spara anche lei. Ok, no, è aperta, è aperta. Un minuto e quaranta. Mi sembra che tra un po' arriva qualcosa di grosso, eh. Se è come l'altra volta. Qua si prendono le munizioni. Ma ne ho. Sta forse laggando un filo? Sì, anche a me. Ma credo anche perché sto... mettendo le dosere di piano il mio cappa. Boh, che botta, che botta! Si vede più niente. No. Ma io sto dentro. Butto la granata anch'io nel dubbio. Ok, sono morto. E credo di non salvarmi più. A bordo, 8 su 16. Eh. E... 0 killed in action. Perché non siamo ancora uccisi. 30 secondi al take-off. Non so cosa sia successo fuori, ma... Ok, sono morto, morto. Non si vede niente. Uno! Sei tu quello morto lì, allora? Sì. Vabbè, 13 secondi, dai. Se ne è un fiume. Partite, per Dio! Andiamo, 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 andiamo! Chiudete il portellone! Vittorio 1, pronti per l'extraczione. Oh! Oh! Victory! Bene, 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 bene. Sì, stanno parlando una lingua strana. C'è la chat sotto, però vabbè. Vedete qua, io prima ho sbloccato il Morita MK1, carabina. Adesso ho preso il Thermo Charge e sto andando verso il livello 4, dove avrò il Pain Booster, che non so cosa sia. E vedete che qua vanno avanti i livelli, sbloccando varie cose. Questo mi ricorda un po' i vecchi Battlefield, che non c'entra nulla, però, giusto perché me lo rievoca. Ho fatto salire appunto di livello la classe. Abbiamo combattuto, siamo arrivati ultimi, siamo stati una classe di... Un gruppo da due, però. Eravamo solo in due, noi? Sì. E abbiamo fatto pochi punti, Combat 80, Combat 122, è morto una volta. Tu hai fatto molto più danno di me. Bravo. E questo era Starship Troopers Extermination, un gioco molto, molto, molto interessante, cooperativo online. Fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie a tutti.